In questo periodo di maltempo, di meteo avverso, soprattutto nei mesi di maggio e giugno, i comuni costieri hanno dovuto ripulire gli arenili con una serie di detriti, di rifiuti provenienti dalle aree interne e soprattutto trasportati dai nostri fiumi. 17 comuni colpiti con una serie di avversità, ma soprattutto una serie di costi aggiuntivi che fanno a carico del proprio bilancio comunale. Con la risoluzione abbiamo chiesto alla giunta regionale innanzitutto di aprire un tavolo di discussione con l'Anci e con i 17 comuni costieri e poi definire uno stanziamento di bilancio regionale a favore di questi comuni per risolvere un tema che coinvolge in maniera forte, soprattutto dal punto di vista finanziario, tutti i comuni della nostra costa in prossimità dell'apertura della stagione estiva.